Ragazzi, lo volevate tutti, lo chiedevate tutti e alla fine è arrivato l'annuncio sulla seconda stagione di The Promised Neverland, che finalmente è realtà. Infatti questa seconda stagione di The Promised Neverland è stata annunciata per il 2020, altri dettagli non si sanno e quindi niente, questa è la notizia e noi ci vediamo in un prossimo video. Sì, ok, effettivamente era questo l'argomento perché non c'è altro da aggiungere, hanno annunciato la seconda stagione, è stata rilasciata questa immagine nel nuovo numero di Jump che appunto ci preannuncia l'uscita di questa nuova stagione. Non sappiamo dettagli più precisi, quindi ancora non sappiamo quando inizierà effettivamente, in che mese, sappiamo solamente che nel 2020 avremo questa seconda stagione ed effettivamente mi pare anche normale perché l'ultimo episodio deve ancora uscire in questo momento che sto registrando il video. Però c'è stato detto che a breve arriveranno nuove informazioni, quindi ci siamo. In tutto questo ancora dobbiamo vedere l'ultimo episodio, in questo momento che sto registrando, ripeto, e la recensione che uscirà come sempre o domani o sabato, conterà anche una piccola sorpresa che in realtà più che una sorpresa è semplicemente qualcosa di più carino per il video. Fate sapere voi se ne pensate di questo annuncio che io sinceramente mi aspettavo tantissimo, lo sapevo che prima o poi sarebbe arrivato, anche prima del previsto, ma va benissimo così. Lascia un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, se ci staranno noi ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale